pensavo sì ma pensavo che fosse un pochino più più larghina invece no è lì vada tu che ti fermi devi dargli un colpettino a saltar fuori così chiudi 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 ci sta dentro guarda che arrivano tutti con la cravatta occhio che gira qua il bidone il bidone il bidone la testa del foglista più che caglino ti fanno accendere poco è il cattarone vedi che è più giusta così è più difficile così se esci è più difficile la fai lo stesso ciao Vito ciao ragazzi c'è un pezzo della tua oh portiamo via perché che è successo è quello per suonare la chitarra quello lì è quasi è la partenza è la rotta ma anche io lo faccio con compressore ma probabilmente avrà preso un colpo qualche cosa ma cos'è che hai rotto vabbè ma c'è ne ancora tre che girano eh ce n'hai tre che te frega no non succedeva niente però dico anch'io gliela faccio con compressore incorragliela la paletta della ventola incorragliela ma per me era già segnata non riesci ad entrare con le tita togli la paletta che dopo te la giusto con la resina con la resina dei denti te la giusto ma devi tirarla giù la ventola eh devi tirarla giù per forza